Allora, non c'è nessun termine giuridico di scadenza per presentare queste tipologie, è preferibile ovviamente che le richieste vengano effettuate nei termini più prossimi possibile a un evento. Peraltro, nell'anno 2014, noi dal mese di maggio a novembre 2014 abbiamo avuto ben 35 eventi critici meteo. Di questi 35 eventi critici meteo abbiamo predisposto il Presidente 14 stati di crisi, per cui c'è stato un evento praticamente a settimana. Allora, il ragionamento che viene fatto da altre regioni, non solo dalla nostra, è quello che se qualora questi eventi non raggiungano da soli la criticità tale per cui possono essere definiti eventi di tipo C, vengano raggruppati in un contesto che porta l'insieme della regione a essere considerata una regione che è stata colpita da un evento prolungato, fatto di eventi minori ma che comunque ha messo in seria difficoltà la regione stessa, per cui sono in altre regioni, questo è stato concesso, diciamo, vengono a generarsi i termini perché ci sia una dichiarazione di stato di emergenza. Questa è peraltro una cosa che noi chiediamo e che il Dipartimento, dopo una procedura tecnica ben specifica, deve riconoscere come ragionamento tecnico in base a una relazione tecnica. Noi quello che abbiamo fatto abbiamo predisposto, sono centinaia di pagine di raccolte di dati, di stati di criticità, dimostrando che questi stati ci sono stati e che quindi sommandoli tutti siamo arrivati ad un importo consistente, sul quale è legittimo pensare che necessiti il concorso dello Stato. Questo è il principio per cui si fanno le dichiarazioni degli stati di emergenza. Questo fascicolo quando è stato trasmesso a Gabriele? Allora, questo fascicolo è un fascicolo che è completo di tutti i dati. Io stamattina stessa ho avuto modo di confrontarmi col prefetto Gabriele su questo aspetto, appunto non essendoci vincoli temporali, non è un problema di un giorno o due. L'importante è che il dossier che arriva a Roma sia completo di tutti gli elementi affinché il Veneto riesca a far riconoscere legittimamente tutti i danni che ha avuto.